Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori AB Wildel. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi check out link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la ruota autoretraibile per allenamenti Dell. Chi è stanco dei soliti addominali da eseguire in posizione sdraiata, può cambiare formula e tentare un metodo più dinamico grazie alla AB Wheel prodotta da StaySmart. Le cose sembrano ottime anche a prima vista, consentendo una presa salda ed ergonomica. I due supporti per le braccia scorrono senza difficoltà e hanno una forma arcuata per un miglior lavoro di spalle e braccia, evitando così il dolore durante l'esecuzione di più ripetizioni. L'attrezzo si avvale di un sistema di resistenza interna che si attiva producendo una forza opposta al moto in avanti, azione che quindi stimola profondamente i vari muscoli associati all'allenamento. Al contrario, preferisce l'avvicinamento della ruota quando la riporti indietro. Al numero 4, abbiamo SongMix A B-Roller per Fitness. Uno degli esami da fare su come selezionare un'ottima ruota per addominali è decidere se acquistare un disegno con una o più ruote. Questa scelta incide sulla robustezza dell'attrezzo, considerando che le due diverse ruote offrono una maggiore superficie di appoggio a terra, con conseguente maggiore stabilità. Il modello SongMix A due ruote di 14,5 cm di diametro, è in grado di sostenere un carico ottimale fino a 130 kg ed ha in realtà due maniglie ricoperte di spugne. Al terzo posto, abbiamo la Ultrasport attrezzo per addominali. Utilizzando questo modello, tra le migliori ruote per addominali in vendita sul mercato, avrai la possibilità di potenziare sia gli addominali che i muscoli delle spalle, con movimenti ovviamente di base particolarmente efficaci per allenare questi gruppi muscolari. Per aiutarti nella corretta esecuzione dei tuoi allenamenti, nel bundle scoprirai una guida con immagini di approfondimento che mostrano con precisione come utilizzare al meglio questo design Ultrasport. Lo strumento è realizzato con cura, utilizzando materiali di buona qualità che garantiscono un'elevata stabilità, un'ottima presa per le mani e un movimento fluido, senza alcun tipo di cigolio o rumore. La ruota, per citare alcune cose, arriva già montata così da evitare qualsiasi problema derivante dal montaggio. Buono, infine, il rapporto tra la qualità di base e il prezzo richiesto, oltre alla piacevole possibilità di scegliere tre diverse colorazioni per i quadri, verde, arancione o nero. Al numero 2, abbiamo l'Everlast 2L Ruota Allenamento. Everlast è tra i marchi di riferimento quando si tratta di attrezzature per l'allenamento, quindi se stai pensando a quale sedia a rotelle acquistare, non puoi trascurare quelle utilizzate dal marchio degli Stati Uniti. Questa ruota è ideale per allenare gli addominali in quanto permette di eseguire un movimento armonioso, determina 18 cm di diametro ed è dotata di due maniglie ergonomiche con maniglie sagomate per garantire una presa più salda. Rispetto ad altri design, quello Everlast non utilizza coperture in spugna, opzione che da un lato rende gli affari meno morbidi ma dall'altro garantisce maggiore salute. Tra gli acquirenti di questa ruota per addominali, alcuni hanno scoperto che non è estremamente facile installare i manubri mentre altri si sono lamentati dell'assenza di un tappetino per salvaguardare le ginocchia durante l'allenamento. Al di là di queste piccole imperfezioni, il prodotto è ben realizzato e vanta un interessante rapporto tra qualità e costo. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il 66 feet a B-Roller Wheel. Insieme alla ruota per addominali, il creatore include un comodo tappetino in gomma importante per avere la capacità di fare gli esercizi con il prodotto, ma utile anche per altri movimenti creati per modellare il tuo corpo. Chi cerca una ruota per addominali per tonificare i muscoli addominali può pensare al modello BP-700 un farad proposto da 66 feet sostanzialmente per due qualità, che non sempre si trovano sui modelli proposti dalle rivali. Il primo è sicuramente il più apprezzato è l'esistenza di un tappetino in gomma che viene utilizzato per appoggiare le ginocchia durante l'utilizzo dell'attrezzo, permettendo a questa parte delle gambe di rimanere ben fissata e non a diretto contatto con il pavimento o l'asfalto. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.